che cosa sta accadendo in questo momento salve buongiorno noi siamo del nucleo nazionale degli alpini in questo momento vedete il cane che sta già segnalando prontamente la presenza di una vittima in questo caso naturalmente si parla di una finta vittima quindi di un figurante in questo caso si parla di uno scenario con un figurante al di sotto delle macerie i nostri cani sono preparati abilitati sia per la ricerca di persone scomparse al di sotto delle macerie sia all'interno di aree boschive quindi tutta la parte della superficie nel in questo caso il cane è come se stesse chiamando il suo proprietario il suo conduttore avvisandolo che in questa area precisamente in questo cono d'odore c'è un figurante e quindi una persona una vittima in questo caso una vittima naturalmente viva in questo caso il finto figurante perché noi il finto disperso con il figurante perché noi passiamo sempre tutto sul gioco premia la cagnolina e in modo tale che per lei si concluda sempre tutto come un gioco nel migliore dei modi per lei vorrei Grazie a tutti.